Chi mi ha aspettato è stato Sharchenko, perché l'ho conosciuto a Vento per la prima volta e è stato a seguirmi tutte le certe duche, l'ho anche incrociato, e poi mi ha scritto un messaggio, è stato carino, sono gentile, anche piuttosto mi ha aspettato, non mi ha aspettato un messaggio di Sharchenko.